Siamo alla pagina dedicata all'aggiornamento coronavirus. L'Italia si blinda dopo il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Il Ministro Speranza ha imposto la quarantena per i lavoratori che giungono da Romania e Bulgaria. I dettagli nella nostra scheda. L'epidemia continua ad andare in alta lena, scendendo ieri da sopra quota 300 a 252 nuovi contagi. Ma il report dell'Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute sulla settimana dal 13 al 19 luglio disegna un'Italia del contagio dove le regioni a livello di rischio moderato da tenere d'occhio salgono da 6 a 9. Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Tra queste c'è anche la Puglia. Infatti nel bollettino epidemiologico di oggi, 25 luglio, sono stati registrati 8 casi positivi. Due nella provincia di Bari, uno nella provincia di Brindisi, due nella provincia di Foggia, tre nella provincia di Lecce. Nessun decesso. L'indice di trasmissione RT a livello nazionale scende appena sotto la soglia di allarme di un contagio per ogni positivo con una media di 0,95. Ma quattro regioni sono sopra la soglia limite di uno. Si tratta dell'Emilia, Liguria, Bolzano e Veneto. Anche il trend dei contagi settimanali è in salita in 12 regioni su 21. Seppur in diminuzione, spiega l'Istituto Superiore di Sanità, in alcune realtà regionali continuano ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati. Questo deve invitare alla cautela, in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione del SARS-CoV-2 è ancora rilevante. Per il rapporto del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, la situazione è complessivamente positiva, con piccoli segnali di allerta relativi alla trasmissione. Al momento, i dati confermano l'opportunità di mantenere le misure di prevenzione e di controllo già adottate dalle regioni, continuare a rafforzare la consapevolezza della popolazione, mantenere alta la resilienza dei servizi territoriali, realizzare la ricerca attiva e accertamento diagnostico dei casi, isolamento dei casi confermati, quarantena dei contatti stretti. Da qui l'importanza che la popolazione continua a rispettare, in modo rigoroso, tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione, come l'igiene individuale, l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico. Intanto l'Italia si blinda. Il Ministero della Salute e Speranza ha firmato, infatti, un'ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria, ovvero i paesi in cui il contagio in questo momento è galoppante. In Puglia sarà sottoscritta, lunedì 27 luglio, la convenzione tra la Regione Puglia con il Presidente Emiliano e il Ministero dell'Interno con il Prefetto di Bari, Antonella Bellomo, riguardante le azioni per il contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19. La convenzione si inserisce nella collaborazione istituzionale tra il Governo regionale e le forze dell'ordine, ai fini della protezione dei cittadini del territorio regionale pugliese.